Teramo a dir poco rimaneggiato, fuori per infortunio Barbuti, Speranza e Spighi, Caidi, Ventola e Piacentini causa squalifica. Recupera solo Simone Vitale, convocati difensori della Berretti, Ragozzo e Celentano. Esame capolista per i biancorossi che non vincono dal 28 ottobre, 2-1 sulla Ravenna, tre punti nelle ultime sei sfide, ma capaci di uscire indenni dal campo del Vicenza. Assai probabile il cambio di modulo, 4-3-3, Lewandowski tre pali, Mantini, Altobelli, Fiordaliso e Celli a comporre il reparto arretrato. Persia, Proietti e De Grazia centrocampo, davanti il tridente Bacio Terracino, Piccioni, Zecca. In trasferta il Pordenone è tuttora imbattuto, tre successi e quattro pareggi, le uniche due sconfitte subite in casa contro Fermana e Triestina. 4-3-1-2 il sistema di gioco disegnato da Attilio Tesser, Bindi tre pali, Semenzato, Bassoli, Barison e Di Agostini in difesa. Gavazzi, Burrai e Bombaggi a centrocampo Ciuria, sulla tre quarti a ridosso del tandem d'attacco Germinale-Candellone. Inizio ore 20.30 dirige Daniel Amabile di Vicenza.